Risolviamo un circuito di tipo RC parallelo. Sia la tensione pari a 10 volt di valore efficace, non indichiamo una fase, la resistenza sia da 5 ohm, la capacità del condensatore sia da 400 microfarad, quindi 400 per 10 alla meno 6 farad, e sia la frequenza pari a 100 Hz. A questo punto possiamo calcolare la reattanza, anzi la conduttanza, partiamo dalla conduttanza della resistenza, quindi 1 fratto R, quindi 1 su 5 ohm, abbiamo 0,2 Siemens, di conduttanza, Siemens ovviamente, calcoliamo adesso la suscettanza capacitiva, che c'è più comoda nel parallelo, come 1 sulla reattanza capacitiva X con C, che quindi diventa 2 pi greco FC, sostituendo i valori ricavati dai dati, abbiamo 2 pi greco per 100 Hz, per 400, per 10 alla meno 6 farad, che dà un totale di 0,25 Siemens approssimati. l'ammettenza, quindi complessivamente, è data dalla conduttanza più J la suscettanza capacitiva, quindi 0,2 più J 0,25 Siemens, espressa in forma algebrica, possiamo trasformare in modulo e fase, quindi fare la radice quadrata della somma dei quadrati della parte reale e della parte immaginaria, e la fase sarà data dall'arco tangente di parte immaginaria su parte reale, quindi 0,25 diviso 0,2. Sviluppiamo i calcoli, otteniamo un modulo di 0,32 Siemens, Siemens con angolo caratteristico pari a circa 51,5 gradi, e questa è l'ammettenza del parallelo, la possiamo rappresentare graficamente sul piano di Gauss, quindi ci troviamo nel primo quadrante, asse reale, asse immaginario, riportiamo la componente reale uguale alla conduttanza G, quindi di valore 0,2, dichiamolo qua, 0,2 Siemens, la parte immaginaria pari a BC, uguale a 0,25 Siemens, componendo queste due parti reale e parte immaginaria, otteniamo la rappresentazione dell'ammettenza sul piano di Gauss con il vettore Y di modulo pari a 0,32 e angolo caratteristico pari a 51,5 gradi. Per calcolare la corrente nel circuito, usiamo la legge di Ohm generalizzata con l'ammettenza, quindi la corrente uguale all'ammettenza per la tensione, vettori entrambi, ovviamente, quindi li esprimiamo per comodità in modulo e fase entrambi, in modo da calcolare agevolmente il prodotto, quindi attribuiamo la fase 0 alla tensione che non ci è stata data tra i dati, quindi la possiamo scegliere arbitrariamente, il modulo del risultato, quindi il valore efficace della corrente sarà il prodotto dei moduli, la fase della corrente sarà la somma delle fasi che quindi risulta essere uguale all'angolo caratteristico dell'ammettenza, 51,5 gradi. Rappresentiamo il diagramma vettoriale intanto della tensione del generatore della corrente erogata dal generatore stesso, quindi abbiamo detto la tensione V, abbiamo scelto di pensarla a fase 0, quindi il vettore V di modulo 10 è già sull'asse dei reali, la corrente di modulo 3,2 è fase 51,5, questo vettore, ovviamente le scale della tensione e le scale della corrente possono non coincidere, quindi la fase della corrente 51,5 gradi, il modulo 3,2, ovviamente la corrente, come vedete, risulta in anticipo sulla tensione come in tutti i circuiti di tipo RC. Calcoliamo le componenti della corrente, nel ramo resistivo la corrente sarà data dalla conduttanza G per la tensione ai capi del parallelo, quindi quella del generatore, quindi avremo 0,2 Siemens fase 0 per la tensione 10 Volt fase anch'essa 0, quindi otteniamo una corrente di 2 A fase 0, quindi ovviamente in fase con la tensione come in tutti i rami di tipo resistivo. La corrente nel condensatore sarà data da JBC, la suscettanza capacitiva, moltiplicata vettorialmente per la tensione, JBC A mod A, corrisponde nel nostro caso a J0,25, ancora per V un vettore, quindi J0,25 A modulo 0,25, ovviamente è la fase, l'angolo caratteristico è 90 gradi, moltiplicata per la tensione 10 Volt fase 0, otteniamo quindi una corrente di valore efficace 2,5 A, fase, somma delle fasi 90 più 0, 90 gradi, che quindi risulta essere in anticipo di 90 gradi sulla tensione come sempre in un ramo di tipo capacitivo puro, quindi la IC sarà sull'asse immaginario, la IR sarà in fase con la tensione, quindi orizzontale, fase 0, la composizione vettoriale delle due correnti, per la legge di Kirchhoff al nodo, deve dare come risultato la corrente entrante nel nodo, la corrente totale, quindi abbiamo che la corrente I è data dalla somma vettoriale di C e di IR, la vediamo sul diagramma.